ok ragazzi rieccomi comunque ho provato a vedere di nuovo questo qua per l'elettricità non c'ho capito non ho capito cos'è comunque ho creato una cesta dove ci ho messo sta roba qua ok quindi direi di andare a dormire e dopo andare alle caverne carica mente carica mente me slip me slip veloce 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 ve mi servono dei secchi d'acqua secchi d'acqua secchi secchi quale orte ordino animanti che sto dicendo ok ho visto qui ok tutta una posta e piavano d'acqua vedendo chi l'acqua di cazzo trovo cazzo trovo l'acqua l'acqua cazzo testa l'acqua ecco il manniamo diam diam preso un uovo ok siamo quasi arrivati aspettate dai come on è ok mi sembra che ci stava la lava è che ci sta la lava ok ecco il kit comunque ho deciso di non costruirci più pennelli salari ma oh ma porca salciccia ok mi andiamo ancora porca salciccia corriam corriam carriam oh porca no mi fa la stone mi lascio così la stone mi fa la stone ok eccola qui l'opsi di anni l'opsi di anni dai piccola su su anche se ne stanno troppo lì ecco lì ma di ricostrino non c'è non c'è se ne andiamo se ne andiamo se ne andiamo se ne andiamo ok vai minecraft posto posto chi vendeci a lui ci sta qua non ci sta più è finita vorrei capire che così quella roba guarda in quella caverna lì ahia vieni che ha delare questa è una caverna eh è tantissima eccola là eccateli là eccateli là ok best 15 ma ci si incontro si 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 ti diamante la scarpe scarpe ah insomma non ci niente proprio niente ci sta nient'altro dai però andiamo a vedere se ci sta qualche dose e dai oh vabbè guarda guarda a mezzo 4 ok devo salire fino a 60 salisco salisco ecco qua salisco 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 no dai cazzo sali sali ah bella marrona no po' 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 oh ci po' z non ci serve lo stiliano ok la mi sembra di sticcola che la minuccia ci sta al coppia strana mi col te ho due grandi stai a vedere dai però, dai però ci sta a un coppia di niente so il coppia strano ok la pala arrivo appena finisco di scavare tutto che d'esta ok ragazzi non ne ho niente ho scavato tutta sta cosa non ci sta non ci sta un posto decente deve andare il punto il punto tutto ok mi sembra quello facciamo così ok una pala ci prendiamo il posto d'argo la clay un posto d'argo quanta clay ok che questo è una caverna di gentleman ok il gesto del coppia un altro coppia si si questo mi sembra una caverna ok si si non ne ho tanta acqua oh cazzo cazzo di spavento due creep creeper porcaccia la miseria cazzo di paura non c'è tutto mamma mia guarda questo mi sono cagato addosso cazzo di paura ciocca 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 vai ecco nella altra che palle ma che c'è stata una sponda di prima ho capito non c'è non c'è sapevo di essere noi mi ha visto qualche cosa sembra un buono di controllare vai a minecraft ah va a fang cosa che nemmeno si sente quando vengono ecco un'altra bastardo diondoli odio ok è finita ok è finita in voglio andare a vedere quella parte sopra prima prendo però tutto sto copro che nemmeno io voglio andare a vedere che ci sta sesso ok ok c'è qualcosa di ferro a un momento ferro copper copper si copper no no che cazzo ha fatto ok qui e e e dai dove muovere a e Cosa si è a uscire? Questa è tutto il mio lavoro. Ok, allora, vediamo. Prendiamo il carboneo. C'è questo bicef. Carbena. Voglio ritornare sopra quando c'è il giorno. No, quando è buio. Prendiamo presto fortemente. Si sa mai. Insomma, di queste se ne trova bicef. Bicefissime. Guarda qua. Non finisce più. Minecraft. Ok, cominciare a scoprire da qua in giù. Allora, siccome mi serve. Ok. Ok. Sta così. Oh, vedai. Pala. Il ritorno mondo è tutto libero. Eccomi qua ragazzi. Potete vedere... Come potete... Potete... Potete vedere. Ho trovato una caverna più grande. Devo mangiare. Vado a bloccare l'acqua. Ok. Ok. Vengo a vedere di qui. Vengo a vedere di qui. Vengo di qui. Mi sa che dividerò il... Il video. In due parti. Mi sa che farà troppo lungo. Sarà troppo lungo. Lastardo. Dovetele a fare in cu. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Da cavolo era grande. Da cavolo è grande. Perché era grande. Io direi di lasciare... Questa terra qui... E questa terra qui. Perché ormai non mi serve a niente. Anzi, non mi ha mai servito a niente. Così rimarrà più posto per... La roba più importante. Oh. Altocopper. 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 ma ne abbaffanculo va serve da terra pezzi di madre qui ok qua direi di prendermi solo qua dopo ci ritornerei e intanto coprisco ok poi qui andare qui prendo sto ferrico e copro il coper è entrato con il coper è strano ok ho preso tutto si questa robica qui mmm non la raccolta non la raccolta ecco io vorrei per raccogliere questo dino qui cric raccogliamo questo in west ok minecraft ah green cristall copper copper ferrico metterebbe una torcia qui ferrico ferrico e quanto ferrico ok allora sta tutto qui dentro va bene va bene ok farei tipo una scala qui ok farei tipo una scala qui ok porca putana che cagamento madonna che paura abbiamo trovato un dungeon un dungeon che si buoni